Sabato mattina alle 10 e mezza inauguriamo l'opera da anni tanta attesa. Dopo tanto tempo sembra davvero essere giunto il momento per l'apertura della nuova viabilità per la Val Graveglia. Operai al lavoro anche questa mattina per dare gli ultimi ritocchi prima dell'apertura ufficiale prevista per sabato mattina della variante Settembrin. Per il nuovo bypass, poco più di un chilometro di strada che interessa i comuni di Carasco, Cogorno e Ne, sembra dunque essere arrivata la fine del tunnel. Inizialmente prevista per fine luglio, ma un ulteriore rinvio a questo punto non poteva non mancare. La cerimonia di inaugurazione metterà la parola fine ad un intervento durato oltre 10 anni, anche se le prime pratiche burocratiche che ne ipotizzano la realizzazione risalgono addirittura negli uffici della provincia al 1992. Mi ricordo che andavamo ancora a scuola, noi della nostra età, che si parlava di questa variante. Finalmente nel 2004 si sono avuti i primi spiragli per la fattiva realizzazione di questa opera, poi nel 2006 praticamente sono iniziati i lavori del primo lotto riguardanti il ponte di Santa Lucia, negli anni successivi l'opera che sabato mattina andiamo ad inaugurare. Un'opera da 9 milioni di euro, tre le amministrazioni comunali coinvolte, ma sicuramente il comune di Ne quello che ha atteso con più ansia la conclusione dei lavori. Questa viabilità in particolare per il comune di Ne significa non solo rilancio, ma sicurezza per tutti quelli che passano e transitano in quel percorso che ormai da anni si sostiene e l'opera lo dimostra, diciamo inadeguatezza di quello che era il tratto adesso che ancora oggi percorriamo. Ci saranno degli interventi anche su questa viabilità che comunque verrà dismessa, cos'è in programma? Sicuramente quella lì è ancora viabilità provinciale, quindi bisogna capire innanzitutto a chi verrà assegnata quella viabilità e sicuramente ha bisogno di lavori massicci per quanto riguarda il contenimento, ma la sicurezza perché continuerà a passare in quel tratto di strada.